Tornano a chiedere le dimissioni del sindaco Seri, Alberto Santorelli e Aramis Garbatini, consiglieri comunali di opposizione che sabato scorso avevano fatto scoppiare la polemica sull'ipotesi di nominare Davide Rossi come nuovo capo di gabinetto. A Massimo Seri, dicono, non è rimasto che trarre le conclusioni, cioè prendere atto della situazione e venire in consiglio comunale con le dimissioni in mano. In virtù dell'incontro che hanno avuto ieri, tre ore di incontro, dal quale l'unica cosa che hanno partorito è stata quella di rinviare un'altra volta la decisione di sostituire il Presidente del Consiglio Comunale, che devono sostituire da quattro mesi, la decisione di fare un'infornata di incarichi di cui non ce n'è bisogno ma pare questa essere la direzione e invece oggi ci dicono che per altre settimane si incontreranno, discuteranno, questo per una decisione del genere. Figuriamoci per tutte le decisioni più importanti che la città già doveva prendere o dovrà prendere i prossimi mesi. Lo stesso Davide Rossi evidenzia che la città ha bisogno di un sindaco coraggioso che prenda le decisioni. Noi siamo contenti che queste cose iniziano a venire anche da chi si era candidato a sostegno di Massimo Seri perché il problema sta tutto qui. Non sta più in una maggioranza che maggioranza non è mai stata, nell'arroganza dei partiti, ma sta in un sindaco che non è in grado di tenere in piedi questa maggioranza e di dire alla città quali decisioni vuole prendere. Pertanto faccia un atto di coraggio questa volta, venga in Consiglio Comunale, apro ufficialmente la crisi e la sua maggioranza con le dimissioni in mano e si apre una nuova stagione politica nella città di Fano. Secondo Sinistra Unita invece, queste richieste da parte di Santorelli e Garbattini sono demenziali e utili al massimo a strappare un trafiletto di giornale. pensano inoltre che a parlare sia proprio chi in pochi anni abbia fatto precipitare il centrodestra fanese dal 63% al 16% dei consensi e con queste motivazioni invitano ad essere più cauti nel richiedere le dimissioni, soprattutto, dicono, quando non si ha la credibilità per farlo.